Dal prossimo 28 giugno volo diretto da Bari a Copenhagen. L'estate 2021 si arricchisce di una nuova importante destinazione. C'è anche l'aeroporto Karol Vuitiwa nel nuovo network estivo della compagnia di bandiera Scandinavia Airlines. Dunque dal prossimo 28 giugno sarà possibile raggiungere la capitale danese grazie ad un collegamento che prevede due frequenze settimanali, lunedì e venerdì con ARCRJ 900 da 90 posti questi gli orari. Da Copenhagen a Bari alle 15.40 e 18.25 del lunedì. Da Bari a Copenhagen 19.15 e 22. Da Copenhagen a Bari il venerdì alle 8 e alle 10.45. Da Bari a Copenhagen sempre il venerdì 11.35 e 14.20. La partenza di questo volo è strategica, ha detto il presidente di Aeroporti di Puglia Tiziano Onesti, perché segna un'ulteriore tappa nello sviluppo del network internazionale ed è in linea con gli obiettivi del nostro piano industriale.